La dimensione Master Accademia, secondo classificato area mercati e competitività per la specializzazione in ambito lavorativo delle figure professionali e aziendali e l'approccio all'alta formazione in piattaforma digitale. Stiamo parlando di Alleanza Università del Settore per Alleanza Assicurazioni. Ecco, Stefano. Grazie. Una foto in favore di fotografi, grazie. Ottimo, grazie mille. Una parola, Stefano. Rapidamente, è un progetto che riguarda una rete commerciale di oltre 10.000 persone e che nasce per accompagnare un processo di digitalizzazione della rete. Oggi Alleanza è la prima rete in Europa in campo assicurativo ad avere oltre 7.000 consulenti digitalizzati, quindi è stato naturale negli ultimi anni individuare dei percorsi che avessero una natura digitale. Quindi l'Università del Settore non è altro che un campus virtuale attraverso il quale i colleghi, dal momento in cui vengono inseriti fino ai ruoli di primo livello manageriale, sono accompagnati attraverso percorsi formativi blended, dove l'e-learning fa diciamo il 70-80% di quello che è l'aula. Poi Armando magari dice... Per cui nuove tecnologie, Armando, giusto? Sì, nuova tecnologia, ma a me fa piacere sottolineare una cosa che abbiamo una rete noi giovanissima, ho 35 anni di media, per cui l'Università del Settore accompagna proprio come diceva Stefano, dall'inizio del percorso con noi, noi ogni anno inseriamo praticamente migliaia di persone nella nostra rete di vendita e io li vedo anche in Università perché spesso vado a presentare la nostra offerta e alleanza all'Università e li vedo veramente, mi fa piacere veramente accompagnarli, nell'Università del Settore c'è tutta la nostra passione per le nostre persone, perché spesso vedo veramente questi ragazzi un po' spaesati o a grado di quello che si dica, veramente disorientati nel loro ingresso in azienda sicuramente. Il vostro rapporto è senz'altro fondamentale. Assolutamente.